Buongiorno a tutti, grazie agli operatori della stampa che hanno voluto partecipare a questo nostro incontro. Io sono qui per riferire degli esiti di questa nostra azione, per riferire di questo 2015. Il 2015 dal punto di vista della sicurezza è stato un anno positivo, è stato un anno che ha consentito di centrare molti importanti traguardi e di evitare, perché è esattamente questo l'obiettivo che ci sia andato, di evitare che qualcosa di grave nel nostro Paese potesse accadere. Tutto questo è il frutto del sacrificio delle donne, degli uomini, delle forze dell'ordine, dei nostri militari, di tutti coloro i quali hanno operato insieme a noi, che io voglio ringraziare in premessa. Io voglio subito dire un grazie di cuore alla Polizia, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, agli operatori del soccorso pubblico, cioè ai nostri vigili del fuoco, alla nostra protezione civile, alla Polizia Penitenziaria, al Corpo Nazionale della Guardia Forestale, il Corpo Forestale dello Stato. Voglio dire un grazie alle agenzie di intelligence, a tutti coloro i quali hanno operato e cooperato insieme a noi per concludere questo anno positivamente. È stato un anno positivo ed è stato bello poter dire questo grazie così sincero e così forte a tutti coloro i quali hanno consentito che così fosse. Non posso non ringraziare, quindi devo ringraziare anche il Parlamento che ha convertito con grande velocità e con grande efficacia il nostro decreto antiterrorismo, perché questo anno è stato anche un anno di importanti iniziative legislative. Ma andiamo per ordine, io vorrei cominciare subito con l'antiterrorismo, cioè con il contrasto al terrorismo internazionale. Noi abbiamo un risultato molto importante da questo punto di vista, all'inizio di questo anno abbiamo avuto la possibilità di approvare un decreto. Abbiamo approvato un decreto, il decreto ha funzionato, questo decreto è stato convertito immediatamente dal Parlamento e ha prodotto importanti risultati. Questa notte abbiamo realizzato la 64esima espulsione dall'inizio del 2015 e abbiamo realizzato la 67esima espulsione dalla fine dello scorso anno. Perché dico dalla fine dello scorso anno? Dico dalla fine dello scorso anno perché è importante sottolineare che noi abbiamo cominciato la nostra strategia delle espulsioni di colore quali si sono radicalizzati prima della strage di Charlie Hebdo. Questo lo abbiamo fatto con grande determinazione dalla fine dello scorso anno. Nella tarda serata di ieri è stata data esecuzione alla espulsione, quindi numero 67, dalla fine dello scorso anno. E questa volta ad essere raggiunto dal decreto mio, dal decreto da me firmato, è stato un trentenne marocchino abitante a Bologna e regolare in quanto in attesa di permesso di soggiorno e che era stato segnalato dalle nostre agenzie di intelligence per l'impegno sui social network nella propaganda a favore dell'ISIS. E non solo per questo ma anche per i commenti positivi espressi all'indomani dell'attentato di SUS in Tunisia, l'attentato dello scorso 26 giugno. In particolare lui è risultato essere un componente di una cellula che operava in Marocco e che si era evidenziata in rete per la gestione di forum inerenti alla preparazione militare e il confezionamento di esplosivi ai fini di autoaddestramento. Si è trattato dunque di un ulteriore atto di forza da parte del nostro Paese che è in grado di individuare coloro i quali possono essere soggetti che in quanto radicalizzati si possono commettere degli atti molto negativi nei confronti del Paese. Abbiamo dunque realizzato 67 espulsioni dalla fine dello scorso anno e 64 specificamente in tutto il 2015. Abbiamo effettuato 259 arresti in ambito di integralismo religioso. Per lo scorso consuntivo in occasione di un pubblico evento avevo detto che abbiamo già controllato 56.000 persone sospette. Bene, abbiamo aggiornato il dato fino a ieri in pratica. Le persone controllate sono 74.177. Sono state indagate per reati connessi 489 persone, 11.647 veicoli controllati e poi abbiamo monitorato 90 foreign fighters. Ovviamente si tratta di soggetti che hanno avuto a che fare con l'Italia, ovviamente non si tratta di soggetti che siano tutti in Italia, ovviamente si tratta di soggetti non tutti vivi perché 18 sono già deceduti. e voglio anche segnalarvi un elemento che è molto importante, cioè sono stati oscurati 6.636 contenuti web di propaganda jihadista grazie alla nuova legge antiterrorismo di questo anno 2015. Quindi 6.636 contenuti oscurati e ciò è potuto accadere grazie al nostro decreto antiterrorismo. Questo è un elemento di grande importanza. Quindi sull'antiterrorismo noi abbiamo raggiunto questi risultati. È un anno tragico per l'Europa e per il mondo, è un anno nel quale la libertà è stata attaccata, è un anno nel quale l'Italia è intervenuta immediatamente con un decreto a inizio d'anno. Quel decreto ha dato degli importanti risultati, faccio presente che sono state applicate anche le norme relative alla misura di prevenzione personale. In un caso c'è quello dell'estensione ai sospettati di terrorismo delle norme che hanno funzionato ai sospettati di mafia. Nel corso di una recente inchiesta è stato fatto un atto che ha consentito l'applicazione della misura di prevenzione personale e questo ha rafforzato l'idea che la collaborazione tra la magistratura e le forze di polizia potesse funzionare molto bene perché questo è un procedimento giurisdizionale, cioè un procedimento nel quale entra in campo la magistratura. E voglio sottolineare che nel decreto è questo un elemento importante perché nel decreto antiterrorismo abbiamo fatto la scelta di istituire la procura nazionale antiterrorismo abbinandola a quella antimafia e io vorrei ringraziare la procura nazionale antimafia e antiterrorismo per il lavoro svolto. Colgo l'occasione, mentre ringrazio loro, di dire un grazie anche a tutti i magistrati italiani che hanno lavorato per far sì che questi risultati fossero raggiunti. E nel dire questo vorrei anche aggiungere un altro elemento che è l'altro pilastro della nostra azione. Abbiamo parlato della lotta al terrorismo internazionale, adesso parliamo della lotta al crimine organizzato, 175 operazioni di polizia giudiziaria, 1794 soggetti ritenuti a vario titolo, mafiosi, presunti mafiosi, che sono stati arrestati. 53 latitanti sono stati catturati, di cui uno di massima pericolosità, sei pericolosi e 46 di rilievo. Voi sapete bene che la nostra strategia nella lotta al crimine organizzato è sempre stata fondata su tre elementi di fondo, cattura dei latitanti, carcere duro e aggressione ai loro patrimoni criminali. Questo è il risultato sulla cattura dei latitanti, cioè 53 latitanti catturati dall'inizio dell'anno. Per quanto riguarda l'aggressione, il carcere duro ha funzionato, anche questo anno, e per quanto riguarda i latitanti catturati, abbiamo di recente svolto un'ultima cattura di uno ritenuto tra i cento più pericolosi, e relativamente all'altra questione, quella dell'aggressione ai patrimoni criminali, 10.979 beni sono stati sequestrati, il loro valore è di oltre 4 miliardi di euro, 4 miliardi, 2 milioni e 43. Mentre per quanto riguarda i beni confiscati, stiamo parlando di 2.430 beni confiscati per un valore di 616 milioni di euro. A tutto questo meccanismo di contrasto vorrei aggiungere nove gestioni commissariali dei comuni disposte per infiltrazioni della criminalità organizzata. Sono nove i comuni che abbiamo commissariato per infiltrazioni criminali. Detto questo, vi do un elemento che mi pare molto importante, perché è un po' la linea guida di questo nostro incontro, e cioè l'indice di delittuosità. Ciascun segmento del nostro Paese è valutato in base a parametri. Abbiamo il debito pubblico, abbiamo l'arretrato della giustizia, abbiamo anche i reati, abbiamo la valutazione del PIL, i rapporti debito PIL, deficit PIL. Ecco, io vorrei dirvi una cosa. Dal punto di vista della delittuosità nel nostro Paese, le cose sono andate molto bene, perché noi abbiamo avuto, fin qui, un meno 11,16% di omicidi, meno 13,8% delle rapine, meno 9,7% dei furti. Si tratta di un risultato molto importante, e si tratta di un risultato che diventa ancora più importante se viene letto in sequenza, cioè noi abbiamo avuto lo stesso risultato, cioè un segno meno, già l'anno scorso. Dunque, noi abbiamo avuto questo anno un totale del meno 10%, meno 10,2% di delitti commessi nel nostro Paese nell'anno 2015, meno 10%. Questo meno 10% si somma al meno 7% dello scorso anno. Nel nostro Paese stanno diminuendo i reati, nel nostro Paese sta rafforzandosi l'azione di contrasto, nel nostro Paese sta scendendo l'indice di delittuosità. Questo è un punto molto importante, perché invece dalle statistiche spesso la percezione è l'esatto contrario. La percezione è che nel nostro sistema di sicurezza vengano tagliate le risorse, invece, come dimostrerò, sono state aumentate le risorse, che aumentino i reati, invece i reati sono diminuiti. Cioè vi è una percezione differente dalla realtà ed è la ragione per la quale io ringrazio gli operatori della stampa, che vorranno dare atto di questi che sono numeri assolutamente certificati e certificabili e che testimoniano come invece le cose sono andate positivamente. Per quanto riguarda il contrasto alla criminalità organizzata, io vado avanti dicendo che abbiamo svolto anche un tipo di lavoro a supporto e a sostegno con l'adozione di regolamenti in materia di lavori pubblici attraverso un'azione di risanamento anche nei comuni che sono stati commissariati con tante misure e tante iniziative che i nostri commissari hanno assunto. Quello che voglio ulteriormente sottolineare oltre il numero dei latitanti arrestati, oltre il numero dei beni sequestrati, oltre il numero dei beni confiscati, è il fatto che vi siano stati 32 provvedimenti di commissariamento di imprese di cui 6 per corruzione e 26 per interdittive antimafia. Questo in base al decreto legge 90 che poi è stato convertito in legge proprio dell'anno scorso, quello del 2014. Cioè è uno di quei casi in cui il nostro ordinamento, ma lo vedremo anche in altri tre casi che vi segnalerò, il nostro ordinamento produce norme che poi diventano efficaci e che producono risultati. Abbiamo firmato 45 protocolli di legalità e abbiamo lavorato con il comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza e le grandi opere alla redazione di un modello di protocollo per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose nell'ambito della realizzazione delle grandi opere. Cioè vi è un protocollo che guida il lavoro che è esattamente ciò che un ministero dell'interno efficace deve fare. Cioè non solo agire per contrasto ma agire anche in modo tale da dare una linea guida nell'azione burocratica e amministrativa che possa essere a prevenzione delle infiltrazioni criminali. Questo è il nostro lavoro sull'antiterrorismo e sulla criminalità organizzata. Credo che dal punto di vista dell'antiterrorismo il lavoro sia molto chiaro quello che abbiamo fatto è un'azione che si è sviluppata molto bene e che ha prodotto risultati. Nel contrasto alla criminalità organizzata che è il secondo capitolo di questo mio incontro con voi mi sembra che il lavoro sia assolutamente stato positivo aggiungo adesso un altro capitolo che è un capitolo assolutamente fruttuoso che è un capitolo che ci ha dato importanti soddisfazioni ed è il capitolo della sicurezza e dell'ordine pubblico. Quando si parla dell'ordine pubblico io me ne sono accorto il primo maggio a Milano ci si trova di fronte ad una situazione per cui non ci sono in Italia solo tanti commissari tecnici della Nazionale di Calcio ma anche tanti commissari di Polizia ciascuno si trova in grado di stabilire se le forze di Polizia devono essere più energiche nel contrasto nelle manifestazioni o se lo sono state troppo o se lo sono state troppo poco bene oggi noi possiamo dire di avere concluso un anno che è stato un anno molto impegnativo anche quest'anno con 9.875 manifestazioni di rilievo in ambito nazionale di cui 3.585 di carattere sindacale o occupazionale abbiamo avuto feriti tra le forze di Polizia non è un dato che è un dato superiore a quello degli anni scorsi e quindi da questo punto di vista noi possiamo dire che il nostro lavoro è stato un lavoro che ha prodotto un grande risultato abbiamo gestito in grande sicurezza 9.875 manifestazioni di rilievo nazionale è un elemento di grande forza per un grande paese per una grande democrazia questo è un qualcosa che ci deve fare comprendere come la coniugazione il coniugio tra il diritto alla manifestazione del pensiero e la nostra libertà di godere le città fin qui il nostro paese è riuscito a garantirlo in modo molto robusto e molto significativo abbiamo anche fatto un lavoro come dire di sicurezza integrata attraverso la cooperazione con 66 patti per la sicurezza su tutto il territorio nazionale ho presieduto 8 comitati nazionali dell'ordine e la sicurezza pubblica e abbiamo lavorato anche molto per quanto riguarda la violenza negli stadi la violenza durante le manifestazioni sportive ha fatto sì che tanti nostri amici tanti nostri familiari tanti nostri cittadini credo che ciascuno di noi abbia amici familiari o conoscenti che hanno rinunciato ad andare alla partita e che hanno fatto una scelta quella proprio di non andare più a godere della bellezza di una partita di calcio di una manifestazione sportiva ecco noi oggi possiamo dire che abbiamo approvato un decreto sugli stadi che ha rappresentato un elemento di miglioramento della situazione generale io vorrei dirvi alcuni dati che mi sembrano molto importanti noi abbiamo avuto nell'anno voi sapete che il campionato di calcio è sottoposto durante l'anno solare a un'interruzione estiva ecco durante questo nostro anno 2015 abbiamo studiato la evoluzione dal vecchio campionato quindi quello che si è concluso in primavera con quello che è appena cominciato nell'anno 2015 il campionato che poi è andato a concludersi in primavera ha visto diminuire gli incontri di calcio con feriti soprattutto relativi alla serie A con una diminuzione del 17,9% una diminuzione del 21% dei feriti tra le forze dell'ordine mi riferisco sempre alla serie A una diminuzione del 23% tra i civili sempre tra i feriti e una diminuzione del 66% dei feriti tra gli steward questo elemento però nel corso del campionato precedente non si registrava nelle serie minori quest'anno noi abbiamo visto consolidarsi il trend generale del 2015 anche nel nuovo campionato ma con una estensione di questi risultati positivi anche nelle serie minori e questo devo dire che lascia ben sperare e aggiungo anche che per garantire la certezza che tutto ciò potesse accadere abbiamo aumentato abbiamo aumentato la presenza di mezzi e uomini durante le partite questo è un dato oggettivo che forse spiega anche in parte il miglioramento di questi dati però questi dati noi crediamo che siano migliorati anche per le norme che abbiamo fatto mi riferisco al DASPO di gruppo che ha funzionato è un provvedimento che prevede per i recidivi anche una inibitoria per otto anni così come avere stabilito aumenti della durata del divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la violazione reiterata del regolamento d'uso degli impianti sportivi che è stata sanzionata da uno a tre anni anziché da tre mesi a due anni crediamo che abbia sortito il proprio effetto così come anche il divieto di trasferta abbiamo visto che nel caso in cui è stato applicato da parte del ministro il divieto di trasferta poi si è realizzato un intiepidimento diciamo così della tifoseria interessata per quanto riguarda proprio la violenza nello sport noi abbiamo complessivamente e così do il dato di sintesi un meno 18% di incontri conferiti nel campionato 2014-2015 mentre nell'attuale campionato il trend è del meno 22% abbiamo in questo minuto 5158 d'aspo di cui 4966 per il calcio ecco questo è un bilancio molto positivo che conferma il fatto che siamo al secondo elemento normativo che io cito in questa conferenza stampa che le nostre norme stanno funzionando ha funzionato il decreto antiterrorismo sta funzionando il decreto contro la violenza negli stadi ovviamente le nostre specialità e mi riferisco in primo luogo a chi controlla il territorio anche per quanto riguarda la sicurezza stradale in primo luogo la polizia stradale ma sappiamo che il soccorso non avviene solo da parte il primo soccorso non avviene solo da parte della polizia stradale abbiamo fatto un ottimo lavoro sulla polizia stradale e sulla sicurezza stradale anche qui i dati sono in miglioramento abbiamo dedicato apposite conferenze stampa a questo scopo e a questo obiettivo anche nel contrasto agli stupefacenti abbiamo ottenuto ottimi risultati come potete vedere dalle slide e a questo punto vorrei affrontare un altro capitolo al quale sono molto legato dopo avere affrontato il tema del terrorismo internazionale del crimine organizzato del governo del territorio e la questione che riguarda la violenza degli stadi sono molto affezionato al tema del contrasto alla violenza di genere le circostanze della vita mi hanno portato a fare prima il ministro della giustizia in quella veste ho potuto firmare insieme all'allora ministro delle pari opportunità il decreto contro lo stalking che io vorrei chiamare con il termine greve non inglese ma italiano che più esprime il concetto cioè gli atti persecutori quindi da ministro della giustizia ho firmato il decreto contro gli atti persecutori e adesso ho proposto come l'avevo proposto allora e firmato il decreto contro la violenza di genere abbiamo introdotto la fattispecie della abbiamo rafforzato le pene abbiamo detto che occorreva prevenire di più punire più severamente proteggere i testimoni abbiamo oggi la possibilità di dire che non tutto va bene ma certamente le cose sono migliorate perché gli omicidi con vittime di sesso femminile sono diminuiti del 6,57% e così come abbiamo potuto vedere come funzionano gli allontanamenti dal coniuge violento del coniuge violento abbiamo 217 ammonimenti abbiamo 217 allontanamenti del coniuge violento e 1198 ammonimenti del questore vorrei dire una cosa molto chiara nessuno può dire che un qualcuno tra i 217 compagni violenti partner violenti allontanati dalle nostre forze pubbliche avrebbero potuto nessuno può dire se qualcuno di loro avrebbe potuto commettere un reato nei confronti della propria compagna perché noi abbiamo 217 allontanamenti ma non siamo in grado di dare la prova contraria cioè del fatto che in caso di presenza in casa ancora tutto ciò non avrebbe poi potuto verificare un dramma per ciascuno di questi 217 allontanamenti noi abbiamo segnato un punto a favore dello Stato io colgo l'occasione della presenza della stampa per dire che chi sente qualcosa che chi vede qualcosa che chi comprende o capisce qualcosa deve denunciare perché una denuncia di un uomo violento può salvare una vita o può evitare una violenza nei confronti di una donna nessuno giri le spalle dall'altra parte nessuno giri la faccia in una direzione che non sia esattamente quella di guardare negli occhi la violenza bisogna guardare negli occhi la violenza e avere la capacità di denunciare immediatamente questo è esattamente lo scopo di una normativa che prevede forme di protezione reale nei confronti di chi oggi può liberamente denunciare senza rischiare ritorsioni perché verrà protetto protetto dallo dallo Stato su 411 omicidi volontari nel nostro paese la percentuale di vittime donne rimane del 31% mentre è chiaro che per quanto riguarda gli atti persecutori 9136 sono gli atti persecutori il 76% è effettuato su donne così come la percentuale alta ovviamente per quanto riguarda le violenze sessuali noi abbiamo un sistema per quanto riguarda la protezione e punizione la protezione delle donne la protezione di chi denuncia la punizione severa di chi effettua la violenza ormai efficace i nostri numeri sono tutti in miglioramento abbiamo bisogno dell'aiuto di ogni singolo cittadino che denunci ciò che vede ecco questo è il mio accorato appello a chiunque abbia qualcosa da dire vorrei poi parlarvi di un altro elemento che è molto importante nella nostra strategia di sicurezza è perché investe la sanità investe la tutela del libero mercato investe il decoro dei luoghi pubblici ed è l'abusivismo commerciale e la contraffazione noi abbiamo ottenuto dei risultati straordinari per i quali ringrazio molto la guardia di finanza ringrazio molto il sistema delle prefetture che hanno coordinato il lavoro nelle singole e nei singoli territori provinciali devo aggiungere che oggi noi abbiamo un risultato che era impensabile fino a qualche anno fa abbiamo avuto un incremento straordinario abbiamo avuto un incremento veramente straordinario del numero dei beni sequestrati che è veramente incredibile abbiamo avuto un elemento di valore un aumento di valore molto significativo del loro della quantità economica che essi rappresentano mi riferisco al 35% in più nel valore dei beni oltre l'80% in più nel numero degli articoli sequestrati questo si deve a una linea guida in materia di prevenzione e contrasto della contraffazione che è di giugno e poi un'ulteriore direttiva mia che è di luglio voi ricorderete numerose conferenze stampa presso il comando della guardia di finanza si tratta tutte di iniziative che hanno avuto l'obiettivo di contrastare l'abusivismo commerciale sintesi 41.407 operazioni di polizia 256 milioni di articoli sequestrati per un valore di 802 milioni di euro questo è il valore dei beni sequestrati rendetevi conto di che numeri stiamo parlando cioè 800 milioni di beni sequestrati contraffatti che hanno danneggiato il libero commercio e il libero mercato è una cifra incredibile cioè 256 milioni e più di beni di articoli sequestrati continuiamo su questa strada abbiamo preparato un piano speciale per il giubileo la lotta alla contraffazione e la difesa dei commercianti onesti oltre che dei consumatori che non comprano beni contraffatti rimane una nostra priorità accelero un attimo perché mi rendo conto di avere già impiegato circa mezz'ora per affrontare questi argomenti e vi dico sul piano del presidio del territorio due cose che mi sembrano molto importanti una mai così tanti militari erano stati schierati in campo per i presidi fissi e per il presidio delle nostre città siamo arrivati ormai a 6.300 militari per la vigilanza di obiettivi e siti sensibili mai recentemente era stato fatto un investimento in sicurezza di questo ambito mai di questa portata questo è un pezzo del discorso che intendo fare perché l'altro pezzo è la sicurezza come priorità nazionale la sicurezza è un pezzo della nostra libertà ed è diventata una priorità noi abbiamo investito un miliardo in sicurezza e difesa e la terza finanziaria consecutiva sono quelle che io conosco da quando sono qui al Viminale ho affrontato tre leggi di stabilità tre leggi finanziarie e la terza legge finanziaria con il segno più questa volta il segno più è stato di un miliardo in sicurezza e difesa 150 milioni per la cyber security 50 milioni per le dotazioni delle forze di sicurezza e poi il bonus degli 80 euro alle forze dell'ordine che è stato anche esteso ai vigili del fuoco e io di questo sono molto lieto e molto orgoglioso perché per noi è stato un elemento di grande forza il riconoscimento al soccorso pubblico del ruolo nazionale svolto devo dire che per l'operazione dei militari la strada sicure abbiamo impiegato 83 milioni ulteriori e abbiamo anche fatto per legge una delega per il riordino delle forze di polizia nei confronti quindi di tutto il settore e il ministro Madia è titolare di questa delega è chiaro che noi siamo già al lavoro per i decreti attuativi e sono convinto che sarà davvero un ottimo lavoro aggiungo sempre dal punto di vista dell'investimento in sicurezza che avere approvato una legge che rafforza il ruolo dei prefetti e delle prefetture mi sembra una scelta coerente con il disegno complessivo che individua nella sicurezza la priorità avere stabilizzato il ruolo delle prefetture e dei prefetti che non possono essere più sottoposti ad attacchi mentre tante forze politiche mi riferisco comunque non mi riferisco a nessuno evitiamo di fare polemiche politiche non mi riferisco a nessuno quindi avere stabilizzato questo ruolo dei prefetti e delle prefetture in questo momento è un ulteriore rafforzamento del nostro disegno strategico che prevede nella sicurezza la priorità del paese perché non c'è nessuna forma di progresso economico possibile di crescita economica possibile se non c'è sicurezza vi faccio anche notare che quest'anno è stato l'anno dell'expo ma non voglio fare non voglio dire troppe parole a favore di quel che noi abbiamo fatto perché ne abbiamo già dette tante di parole che si sposano e si abbinano a questi fatti ed è stato l'anno del giubileo nel giubileo e per il giubileo dico solo delle cifre che mi sembrano molto importanti 2500 assunzioni straordinarie di unità delle forze di polizia 250 assunzioni straordinarie dei vigili del fuoco 1100 unità delle forze di polizia assegnate specificamente all'evento 2271 militari per la vigilanza dei siti e degli obiettivi sensibili rafforzamento della dotazione di organico e quindi rinforzi per le questure dei principali santuari mi riferisco alla Santa Casa di Loreto mi riferisco a San Giovanni Rotondo e al santuario di Sant'Antonio di Padova e alla Basilica di San Francesco le relative questure hanno avuto un rafforzamento delle dotazioni organiche ecco questo è stato il grande lavoro in ambito di sicurezza e di sicurezza e ordine pubblico lotta alla criminalità organizzata e io ci tengo a sottolinearlo lo sottolineo con l'evidenziatore perché è una cosa alla quale sono molto affezionato parlando di questi argomenti ho citato tre decreti che noi abbiamo fatto il decreto riguardo l'antiterrorismo il decreto per quanto riguarda la violenza sugli stadi e il decreto contro la violenza di genere tutti e tre decreti sono diventati leggi tutti e tre decreti e cioè le leggi che hanno rappresentato le figlie di questi decreti hanno funzionato questo è un paese in cui la legislazione viene utilizzata per innovare laddove serve capitolo immigrazione sull'immigrazione noi abbiamo fatto un lavoro straordinario salvando vite umane un lavoro straordinario realizzando un grande un grande lo dico senza giri di parole lo dico con grande forza un grande servizio all'Europa e al mondo sì noi abbiamo realizzato un grande servizio all'Europa e al mondo ed è questa la ragione per cui ci aspettavamo e ci aspettiamo una importante solenne procedura di ringraziamento tutto ciò ha significato salvare vite umane nell'anno 2015 fin qui ci sono stati 144.200 migranti sbarcati vi sono stati i paesi di partenza riconfermati a conferma che non è cambiato lo scenario geopolitico perché di questi 144.000 129.000 sono partiti dalla Libia sono partiti dalla Libia quindi per quanto ci riguarda il tema della Libia rimane assolutamente centrale e noi speriamo che la recente evoluzione della vicenda politica libica sia una evoluzione che consenta di frenare le partenze perché quello è un obiettivo strategico e abbiamo avuto un grandissimo risultato anche per quanto riguarda i numeri relativi allo smaltimento dell'arretrato delle nostre commissioni di asilo avevamo l'obiettivo di migliorare le performance delle commissioni di asilo ci siamo riusciti abbiamo praticamente smaltito l'arretrato il lavoro sarà completato entro la fine del mese di gennaio abbiamo incrementato dell'80% il risultato delle nostre commissioni di asilo questo è figlio del numero aumentato delle commissioni e della semplificazione delle procedure cioè a tutti i giornalisti tecnici di settore io ricordo le domande che mi venivano fatte negli anni precedenti erano qui si procede lentamente per le domande di asilo bene problema risolto noi non abbiamo più un problema di arretrato del lavoro delle commissioni ormai il tema è un tema per quanto ci riguarda superato con grande efficienza tutto questo non è frutto del caso ma è frutto di leggi e della loro applicazione è cambiata un po' la provenienza dei migranti rispetto ai paesi di partenza c'è stato un crollo del numero dei siriani c'è un incremento sia degli eritrei che dei nigeriani che dei somali per quanto riguarda le percentuali su 66.266 domande di protezione internazionale esaminate il 58% hanno avuto come risposta un no da parte delle nostre commissioni il 42% ha avuto come risposta un sì questo testimonia esattamente la necessità che l'Europa si faccia carico dei rimpatri cioè noi stiamo lavorando salvando vite umane mettendo l'Italia dalla parte giusta della storia perché se no l'Europa sarebbe stata completamente protagonista di una vergogna cioè del Mediterraneo come un mare come un lago di morte contemporaneamente abbiamo l'esigenza di una forza europea che sia capace di effettuare i rimpatri degli irregolari questo è l'obiettivo che noi abbiamo per l'anno 2016 perché crediamo che il meccanismo di funzionamento del sistema non possa prevedere un come dire un collasso derivante dal mancato funzionamento dei rimpatri per quanto riguarda poi gli hotspot è operativo anche quello di Trapani questa mattina infatti ci sarà l'arrivo di una prima nave che andrà a che andrà lì esattamente a Trapani per realizzare il primo arrivo dei migranti nel nuovo hotspot e altro capitolo su cui mi soffermo perché mi sembra molto molto e poi vado a concludere mi sembra molto molto bello e molto molto giusto è quello del soccorso pubblico io ringrazio il nostro dipartimento dei vigili del fuoco ringrazio il corpo nazionale dei vigili del fuoco vorrei dirvi che gli interventi nell'anno 2015 fino a oggi effettuati dei vigili del fuoco sono stati 722.480 cioè si conferma una media si conferma una media di 2000 di 2000 interventi al giorno un dato straordinario che rende i vigili del fuoco tra le forze più amate tra le donne e gli uomini in divisa più amati del nostro paese si tratta di interventi di soccorso quotidiano ai cittadini fughe di gas in abitazione incidenti sul lavoro per oltre un terzo e poi incidenti ed esplosioni per l'altro terzo insomma questi sono i due grandi aggregati abbiamo dovuto fronteggiare significative emergenze come il maltempo in Emilia Romagna in Toscana la questione di gestione del rischio di soccorso nell'ambito di Expo l'incendio all'aeroporto di Fiumicino la tromba d'aria in Veneto l'esplosione dei fuochi della fabbrica i fuochi artificio in Puglia l'incendio alla pineta di Fiumicino altre aree di maltempo vicende di maltempo anche durante il periodo estivo mi riferisco in Calabria Campania e Toscana abbiamo voluto ricambiare questo loro sforzo e questo loro lavoro con quelle assunzioni straordinarie di cui ho parlato con gli 80 euro e vigili del fuoco di cui ho parlato e anche in questa legge di stabilità lo sblocco del trattamento retributivo per il comparto soccorso pubblico e l'ammodernamento delle attrezzature del personale dei vigili del fuoco quella per l'anno 2015 con quella che stiamo approvando e che andrà per il 2016 50 milioni di euro per l'ammodernamento delle attrezzature di protezione personale oltre appunto al bonus degli 80 euro abbiamo semplificato i procedimenti amministrativi antincendio e abbiamo programmato il riordino delle carriere solo un paio di considerazioni finali il ministero dell'interno non è solo il ministero della polizia e il ministero dei diritti e dei servizi questo è un punto che a me sembra molto importante sottolineare e valorizzare perché abbiamo lavorato molto nel conferimento di cittadinanze molto importanti sia dal punto di vista numerico ma anche dal punto di vista simbolico avrete tutto nelle slide abbiamo lavorato molto per erogare ai cittadini servizi agli italiani dei servizi molto importanti mi riferisco ai fondi europei che sono stati spesi e spesi bene ai fondi del piano di azione e coesione che hanno consentito interventi importanti per quanto riguarda l'assistenza agli anziani attraverso i comuni e anche la programmazione di asili nido un numero molto alto e il nostro dipartimento per gli affari interni e territoriali ha molto lavorato sul tema dell'anagrafe nazionale della popolazione residente noi siamo protagonisti della digitalizzazione del paese noi siamo protagonisti di un avanzamento straordinario del nostro paese dal punto di vista del servizio e dell'offerta digitale con la carta di identità elettronica si tratta di missioni strategiche per il paese che sono anche missioni strategiche nostre la mia comunicazione potrebbe durare ancora molto a lungo ma mi fermo qui perché ritengo che fosse necessaria e doverosa una panoramica davvero esaustiva di quello che abbiamo fatto un paese il nostro in cui la prevenzione sul terrorismo ha funzionato il contrasto alla criminalità organizzata è stato molto efficace in cui abbiamo arrestato i latitanti in cui abbiamo svolto un'azione straordinariamente importante per quello che riguarda la protezione dei nostri concittadini sul web dalla minaccia terroristica che ha un'agenzia nazionale dei beni confiscati che è diventata una grande agenzia che sta con efficienza gestendo i nostri beni confiscati un paese in cui i reati calano di più del 10% in cui le donne vengono più protette ecco questo è il nostro paese oggi un paese in grado di essere protagonista anche nel salvataggio di vite umane e di una importante battaglia in Europa tutto questo non significa che noi ci accontentiamo lavoriamo perché il 2016 sia ancora migliore del 2015 come abbiamo lavorato perché il 2015 fosse migliore del 2014 questa è l'Italia questo è un grande paese che è un paese che oggi può dirsi un paese più sicuro di tanti altri e che lavora perché sia ancora più sicuro nel prossimo anno vi ringrazio e mi offro è un paese